Lanciano in corona vincitore volley treviso al palazzetto dello sport. Si è chiusa la settimana all'insegna della pallavolo giovanile con le Big Mat finali nazionali giovanili Under 17 maschili. La squadra veneta, guidata in panchina da Giovanni Cappelletto, ha vinto l'edizione 2024 della manifestazione nazionale riservata agli Under 17, superando in finale con il punteggio di 3-0 la volley parella Torino. La finale Scudetto è stata vibrante fin dalle prime battute con le due squadre che hanno mostrato un livello di gioco molto alto nonostante la giovane età dei protagonisti in campo. L'estasi del giovane palleggiatore Simone Porro e del coach. È stata magnifica perché è il coronamento di una stagione pazzesca. Abbiamo fatto più di 200 allenamenti, più di 70 partite e quelle perse si contano in urbano. Questa è la dimostrazione appunto di quanto il lavoro in palestra, in sala pesi, tutti i giorni, continuamente poi dai suoi frutti. Voglio ringraziare tutto lo staff e tutta la squadra perché è veramente stato un anno pieno di emozioni, pieno di vittorie. Ci sono stati anche momenti molto difficili. Non dimentichiamo la prima partita in queste finali che abbiamo perso. Forse probabilmente ci ha aiutato. È stato magnifico, incredibile. È il mio quinto Scudetto. È come al solito gli ultimi più piccoli, gli ultimi sono sempre i più simpatici, più belli. È sempre una gioia, è sempre il piacere, soprattutto quando vengono valorizzati i talenti della squadra. Questa è una squadra con un'enorme potenzialità, dei talenti indiscussi. E però non sempre, sono tanti anni che faccio le finali, non sempre riusciamo a esprimerli perché soprattutto nelle finali nazionali ci sono un sacco di fattori. C'è la tensione, la paura, l'esordio, tante cose che a volte limitano. Però invece quest'anno siamo riusciti a portare compimento a quello che era il nostro sogno e siamo contenti.